Amico, tra poche settimane parto per un viaggio. Dove vai? Parto per l'Alaska. Per l'Alaska? Perché? Perché voglio vedere i pinguini. Ma non ci sono pinguini in Alaska. Che cosa dici? I pinguini vivono nell'Antartide. In Sudafrica, Australia, eccetera. Ci sono gli orsi polari in Alaska. Non mi piacciono gli orsi polari. Gli orsi polari sono così carini. No, ho bisogno di cambiare la destinazione. Dove vuoi andare? Vado in Australia. Perché l'Australia? Voglio vedere i pinguini e i canguri. Buon viaggio!